... Accomodatevi... Prego... Troppo felice, ma quando arriva a te non senti dove guarda... No, guarda, sono le scelte... Ecco, è vero... L'ambiente è sempre quello... Ma è bello però... Ah... Sta bellissimo... Allora, mi raccomando il mio visone, eh? Non ancora... Signora Zanicchi... Dei bei visoni? Ma io pensavo proprio una cosa da poter portare... Portare tutti i giorni... Perché avevo delle felice tra un paio di queste anche qua che mi hanno rubato... Una volta erano... Si considerava più pregiata la... Ah, davvero? Sì... Ma in te è peccato... Sì... Come in tutti i luoghi... Ah, vabbè... Io comunque... Più o meno... Ancora sì... Abbiamo ancora parecchi modelli... Scusate... Oggi capitano di tutti i colori... Cos'è successo? Niente... I pantaloni... Eh... Alessandra ti occupi più un attimo della signora... Sì... Arrivo subito signora Tedito... Arrivo... Arrivo... È molto bella però questa... Sì, ma non si preoccupi... Guarda, i modelli... C'è tutto il negozio... Questa qual'era? La prima? Sì... Questa è perché era il colore un po'... E poi... Vedi... È come fatta apposta così... Così... Signora... Eh... Vieni... Vi provo qua... Mmm... Comunque adesso... Vuole riprovare un attimo questa... Vado a vedere un attimo se trovo... Si provi un secondo questa signora... Poi magari... Questa le consiglio di vederla... Se la vediamo alla luce del sole... Allora... Questa è... Questa è... Questa... Questa... Guardi... Questa niente... Questa qui... Forse è una delle... Più belle che abbiamo... Eccola... Provi un attimo... Senta... Se lei... Vieni su un attimo... Vieni su un attimo... Questa qui... Se la vediamo alla luce del sole... Perché... Adesso... Penso che sia andata... Guardi fronte... La signora che prima era con lei... Allora io adesso non posso lasciare qui... Questa qui le sta benissimo... Comunque... Se andiamo... Ecco... La vediamo con la luce del sole... E... Per... Sì... Sì... Venga che... Sì... 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 Beh... Vieni su questa... Andiamo a vedere quello che dicevi... Esatto... Vieni su un attimo... Se la vediamo... Se lei... Lo va a chiamare un attimo la Torradizza... È nel bar qui di fronte... Esatto... Dunque... Dovrebbero essere... Nel bar... Vede quello dietro all'edicola? Là in fondo... Quel bar là in fondo... Sì... Ok... Vabbè ci sono però... Buongiorno... Buongiorno... Cercavo... Sono il venetetuzzi della... Sì... Polizia Tributaria... Sì... No... È solo questa pelliccia... No... Perché dentro un negozio di Annabella... Vado a chiamare Ravizza... Che qui nel bar... Sono i gozzanicchi... Sono due elementi che... La signorina ha detto... Vado a chiamare Ravizza... Perché sono strani... Eh... D'accordo... Questo è un altro paio di mani... Eh... No... No... Io questo lo sto provando... No... No... Lo stavo provando dentro... Però mi ha mandato a vedere... Di chiamare Ravizza... Perché sono questi due elementi strani... È stato che si vede il cartellino... Eh... Ha lo scontrino fiscale? No... Ma non l'ho conquistata... Lo sto provando... O va lei a chiamare Ravizza nel bar... Lo fa venire dentro... Oppure vado io... Vabbè... Questa è una cosa che vediamo dopo... Ma allora... Io le stavo chiedendo... Solo se lei è provvista di scontrino fiscale... Non l'ho acquistata... Lo sto provando... Ma lei lo sa che nessuna merce... Può uscire da un esercizio... Allora venga dentro con me... Scusi eh... Insomma... È suo o non è suo... Non è mia... La sto provando... La sta provando... Certo... E non ha lo scontrino fiscale... Eh sì... Vedo perché c'è qui... Vediamo... Certo... Del negozio... Ma scusi... Lo sto spiegando... Puoi entrare dentro un attimo... Nel negozio... Che poi così le spieghiamo meglio... Se no facciamo... Allora... Eh scusi eh... Vendi la valigetta per favore... Mi sembra di essere in un film... La signorina è sola... Sono due elementi con una borsa strana... Io sto provando... Signora vada a chiamare Radizia... Purtroppo noi facciamo... Lo capisco... Però insomma... Venite dentro... Certo... Eh... Le arene sono due così... Che non si entrano a nulla... Tenetela conosco... La cena... E adesso? Cosa è successo? No... Niente... Noi abbiamo fermato... La signora Zanicchi... All'uscita... Del suo negozio... Abbiamo chiesto... Se va a pelliccia... Era sua... Dunque... Lei può incorrere... Una pena pecuniaria... Che... Vale da due... A quattro volte... Il valore dell'oggetto... In questo caso... La pelliccia... Che vale 19 milioni... Mentre il signor Radizia... Lo sa benissimo... Cosa dici? La chiusura del negozio? No... Il doppio della sua pena... No... Tenete... Comunque scusi... Abbia pazienza... Come... Come negozio... Noi non abbiamo assolutamente intenzione... Di pagare la multa... Cioè... Se troppo è anche sua... Scusi eh... No... Abbia pazienza... Sento anche male... Sono anche un po'... Vista l'età... Vorrei... Andarvi fuori... Dai... Perdiamola lì... Mi vuole favorire... Non do compasso... Signora Zanich... Oh Madonna... Tu guarda... Tenete... Mi raccomando... Il verbale... Al negozio... No... Al negozio... Assolutamente no... Scusi... La signora Zanich... Alla uscita... Con la pelliccia... Non autorizzata... Signora Zanich... Io rido... Perché le cose... Non vorrei... Che lei prendesse queste cose... Per ridere... No... Io sempre... Io rido comunque... Caro lei... Mi dispiace tanto... Però purtroppo... In questo momento... Non è il caso di lei... Ma lo sai che... Che la vita... Le cose tragiche... Bisogna prenderla così... Eh sì sì... Lei è sposato? Sì... Ecco perché... Le farò mandare... Una pelliccia a casa... Per sua moglie... Eh... Eh... Perché non è la pelliccia... Questo quale... Eh... Dario... Dove va questo? Una propria male... E poi il resto... Rimane a noi... Ce lo passeremo a... 36 milioni da pagare entro? No... Quindi... Adesso parte... Siamo un po' esagerati... Tanto la ringrazio... Certo? Siamo un po' esagerati... Siamo due Allori dentro... Siamo... Voi parta... Grazie a tutti вдi... Qu Eugene. K